buongiorno a tutti da Stefano Carrara benvenuti a questa sessione del webinar linus del master 2004 in cui parleremo di riclassificazione di bilancio argomento che abbiamo toccato più volte anche in scorse edizioni ma oggi lo faremo in una ottica e con degli obiettivi un po' diversi dal solito ovvero cerchiamo di focalizzarci non tanto su come fare una riclassificazione ad esempio di un bilancio di verifica in schemi gestionali ma soprattutto ci focalizzeremo su come il modo di elaborare i dati quindi il modello di analisi può influenzare in maniera assolutamente determinante la valutazione di un'azienda e quindi un aspetto che viene spesso considerato come di forma di contorno può andare a intaccare in maniera fortissima la conclusione della nostra valutazione aziendale ok lo faremo con una serie di esempi e vi dico già vi dico già che nella parte finale vi chiederò per chi lo vorrà di suggerirmi qualche cavia qualche azienda che voi conoscete e che sulla base dei dati pubblici che sono gli unici che il linux possiamo vedere perlomeno nel corso dei webinar ha qualche tematica riclassificatoria molto molto importante che opportuno andare a scovare io do tempo intanto alle persone di collegarsi al saluto naturalmente vittorio marco e tutti quelli che si stanno mettendo in contatto che stanno logando in questo momento qua e quindi questo sarà un po il grazie anche a milena ernesto luca e ovviamente abbiamo la chat che potete utilizzare le domande ormai voglio dire sapete meglio di me come funzionano i nostri webinar ciao marco anche a te benvenuto io ne approfitto perché vedo che le persone si stanno collegando adesso per segnalarvi due novità che secondo me è importante avere presenti che riguardano più linux in generale diciamo in questo momento vediamo qua ok allora e abbiamo per quanto riguarda il dopo vacanze per tutti coloro i quali sono interessati sapete che abbiamo un accordo con gli amici di in finance quindi apro chiudo una parentese abbastanza veloce che hanno strutturato per noi un corso però erogato al cento per cento da loro sul business plan business plan che come sapete è un modulo di linux certificato da buro veritas e che viene usato sempre di più per quanto riguarda la gestione soprattutto dalla parte quantitativa eh dell'analisi legata agli adeguati assetti organizzativi quindi l'analisi dell'equilibrio finanziario patrimoniale della centrale dei rischi e soprattutto l'analisi di eh prospettica legata alla sostenibilità del debito e poi viene anche usato per attività bancaria o di investimento quindi devo fare di istruttore devo andare in banca quindi faccio prima il business plan e poi vedo eh a quali condizioni posso richiedere finanziamenti alla banca ecco tutto questo richiede un minimo di formazione sia su come usare linux in maniera professionale per raggiungere questi obiettivi sia poi spero che nessuno si offenda dei presenti su cos'è realmente un business plan e come i numeri girano in un business plan perché ve lo dico perché abbiamo demandato a dei formatori non professionisti quindi agli amici Ivan Fogliata e Michele Moglia ehm la realizzazione di questo corso che hanno fatto proprio per noi e quindi io vi mando il link all'interno della della chat poi se avete piacere eh volete dare un'occhiata lì trovate tutte quante le informazioni buongiorno anche a Gian Piero e assolutamente benvenuto bene eh sono le quattordici e diciannove io finirei per amboli andrei diritto sul nostro argomento eh di oggi oggi abbiamo qualche qualche slide che poi naturalmente riceverete ma come detto ci vocalizzeremo poi su dei casi eh su dei casi reali allora partiamo intanto da una considerazione io qua volutamente ho preso ho preso una eh come dire anali un anali scusate ho riportato riporto quello che dice eh il sacro ordine del dei commercialisti se riesco a non fare confusione ok eccolo qua il quale eh ci dice appunto che ehm come dire qua parliamo di adeguati assetti no ma eh è collegato all'argomento di oggi perché si richiede al professionista di conoscere le modalità con cui il dato che sta alla base dell'analisi nel nostro caso il bilancio oppure il bilancio di verifica o comunque i dati che andiamo ad estrarre dalla contabilità aziendale dicevo il professionista io estendo dico l'analista finanziario dovrebbe sempre conoscere le modalità con cui i dati vengono trasformati in informazioni ok perché perché da questa modalità lo stesso dato può divenire un'informazione parzialmente diversa se l'informazione è parzialmente diversa l'altro vagoncino che ci attacchiamo è che la valutazione di un'azienda può essere parzialmente o anche sensibilmente diversa e questa è una domanda che non ci facciamo praticamente mai o meglio che pochi si pongono perché ormai siamo abituati a guardare la faccina che sorride la faccina rossa lo score questa azienda può essere affidata per 10.821 euro oppure peggio ancora nel mondo che noi frequentiamo della gestione dell'analisi dei portafogli di crediti in particolare quelli utp tante volte si utilizzano dei sistemi completamente automatici che mi dicono guarda che questa posizione ha una recuperabilità attesa del 18,3 per cento ma è importante se siamo dei professionisti capire come quella valutazione automatica che è sicuramente utile viene tuttavia fatta perché alla base sappiamo che ci sono tanti tanti elementi allora il primo punto che vorrei fare proprio questo non è solo una richiesta che ci viene fatta dall'ordine dei commercialisti legati ad adeguati assetti qua ci sono tanti commercialisti collegati quindi l'invito è se gestite adeguati assetti per i vostri clienti fate in modo di conoscere bene quali sono i modelli di riclassificazione soprattutto se partiamo dalla contabilità ma è una valutazione generale che vale sempre che vale sempre esempio la banca sapete bene che guarda la posizione finanziaria e la rapporta l'ebitda chiedo in tutta onestà magari se mi date qualche risposta in diretta a a voi secondo voi cosa devo mettere nella posizione finanziaria nella posizione finanziaria per calcolare il famoso posizione finanziaria netta sopra ebita che sapete quando è superiore certe soglie fa venire l'iteriziano al sistema bancario e che quindi tende a non affidare o a segnalare determinate posizioni cosa comprende la posizione finanziaria comprende quali tipologie di debiti secondo voi vediamo se siamo attivi oggi oppure 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 ci stiamo pensando molto su non state timidi e roberto mille mi dicono i debiti finanziari però non va bene nel senso certo che va bene che sono i debiti finanziari allora io vi dico se abbiamo un bilancio civilistico delle voci del bilancio civilistico cosa mettiamo nei debiti finanziari oggi faccio l'antipatico chiedo scusa ma a fin di bene tutti quelli che hanno valenza finanziaria dice vasco compresi i crediti commerciali oltre determinate scadenze Antonio dice al netto delle disponibilità Sergio dice i debiti bancari e onerosi per esempio i tributi rateizzati Luca dice il totale dei debiti finanziari Luca ancora dice il totale delle passibilità finanziarie Roberto dice debiti verso le banche a breve medio lungo termine al netto della disponibilità anche i debiti fornitori dice Milena è già qua ci siamo capiti no stiamo introducendo dei criteri di valutazione delle poste contabili che poi ci serviranno per costruire un modello che ci servirà a sua volta per valutare un'impresa in questo caso per valutare una parte che è quella della posizione finanziaria netta già confrontando queste risposte si capisce che non c'è per quanto riguarda la riclassificazione una una metodologia che è univoca e stampata scolpita anzi nella pietra è sempre valida e quindi quello che il professionista dovrebbe fare o l'analista dovrebbe fare è sicuramente capire conoscere i modi con cui i dati sono trasformati in informazione nel nostro esempio cosa c'è dentro la posizione finanziaria di quell'azienda lì che sto aiutando ad andare in banca a chiedere un finanziamento ok ma soprattutto anche la capacità di adattare perché no le modalità con cui si riclassificano dei dati in funzioni degli obiettivi cosa voglio dire voglio dire che e quali adeguati a sette ancora una volta ci aiutano molto non è detto che la stessa voce contabile andiamo ancora più nel dettaglio prendiamo un bilancio di verifica costo dell'energia forza motrice non è detto che debba sempre essere riclassificata nello stesso modo ed è la stessa voce contabile e quindi ancor più c'è una valutazione anche nel merito del singolo caso che deve fare il professionista se vuole ottenere un risultato di di grande qualità e anche su questo vedremo presto un esempio ora andiamo a toccare fra qualche minuto il tema della posizione finanziaria netta perché non voglio dare la sensazione di averlo sollevato solo per provocare scusatemi qualche qualche risposta e lasciarla lì assolutamente lo andiamo a toccare insieme ad altri però mi sembra che in questa introduzione emerga appunto che la riclassificazione è un qualcosa che certamente segue delle logiche ma è un qualcosa che può anche essere soggettivo che non che non è universalmente valido e che richiede quantomeno una motivazione chi di voi conosce le i report commentati che crea linus sa che alla fine di ogni report è riportato scusate il gioco di parole lo schema di riclassificazione in modo tale che chiunque presenti un'analisi che ha una faccina che ha dei valori che ha dei verdi dei rossi degli arancioni può dire alla sua controparte guarda che io questo modello questa analisi queste risultanze te le sto esibendo sulla base di questi criteri di lettura delle informazioni magari quell'altro non è d'accordo vabbè lì poi si inizia una una discussione pensate pensate alla valutazione dell'azienda io e il collega alessandro fischetti siamo occupati di di eminei in una banca d'affari per per dieci anni e lo dico a mo di battuta ma a seconda che avessimo un mandato a vendere un mandato ad acquisire un'azienda la definizione posizione finanziaria netta era tutte le volte un problema perché in certi casi no interessava includere anche i debiti per leasing eh o locazioni finanziarie in modo tale da avere un valore dell'equity più basso in altri casi se lì dall'altra parte invece dicevi no quindi poi c'è anche la la volgarissima pratica che determina la riclassificazione per cui attenzione a a questo primo eh aspetto leggo qualche commento tra quelli che arrivano molto numerosi e allora intanto Luca dice assolutamente d'accordo eh quello che dice vale anche per le spese di pubblicità per tanti altri costi certamente Luca grazie credo che tu ti riferisca proprio all'esempio di prima sui costi dell'elettricità che andiamo assolutamente a vedere l'ottimo Christian eh che eh che saluto e che ringrazio per essere collegato ci dice che la riclassificazione si basa anche sulla sensibilità di chi riclassifica ecco e sul suo grado di conoscenza del business come lo stesso viene trasferito nel bilancio bravissimo Christian eh nel senso che eh noi ragioniamo sempre a risorse infinite ma nella realtà non è così a volte spesso da un bilancio io eh qualsiasi riclassificazione possa applicare non sono in grado di determinare la posizione finanziaria perché eh non non ho sempre tutti i dati dell'azienda e quindi devo ragionare in maniera flessibile devo ragionare in altri in altri modi Antonio già lancia una domanda pericolosissima che andrò a prendere dopo quindi debiti verso soci come riclassificarli equity o debito qua c'è un bellissimo paper che adesso non riesco a recuperare che ha scritto Ivan Fogliata che saluto eh proprio su e in final proprio su questo su questo argomento ve lo faccio mandare con la documentazione non sono in grado di prenderlo adesso perché ha fatto una trattazione interessantissima su su questo eh su questo argomento Antonio un altro Antonio dice molte volte si hanno anche poche informazioni dell'azienda si devono fare degli assunti certo certamente sì per quello vanno riportati delle analisi bene mi sembra che su questo quindi sulle premesse non ci siano forti discrepanze tra noi ma che siamo tutti allineati sul fatto che insomma bisogna conoscere un po' questo eh questo benedetto modo in cui i dati vengono convertiti in informazione andiamo un pochino avanti nel nel ragionamento allora cerchiamo di capire un attimino ma per una buona analisi di bilancio cos'è quali sono gli ingredienti gli ingredienti che che ci servono cioè prendiamola un pochino larga per arrivare dai dati poi alla riclassificazione e poi alla valutazione dell'azienda così buttandola lì eh domanda semplice cosa serve per fare una buona analisi di bilancio dove per buona si intende analisi completa che dica delle cose che sia utili perché sennò conosciamo conosciamo no eh le come dire le perplessità che taluni avanzano dicendo i bilanci non servono a niente perché ti fanno vedere l'azienda con lo specchietto retrovisore tutte queste meravigliose affermazioni che insomma in gran parte non trovano lo fondamento e poi vediamo per quale motivo cosa serve per fare una bella analisi di bilancio secondo voi provo a darvi una mano io in modo da giustamente Antonio dice bilanci bilanci analitici e capire il ciclo monetario e la centrale dei rischi e che poi grazie Antonio sono gran parte delle informazioni che noi andiamo a inserire nel report Linux per esempio per gli adeguati assetti organizzativi Milena Milena dice una corretta base eh da cui partire per una riclassificazione più ehm più precisa possibile ok eh ah intanto eh ringrazio Cristian che eh che mi ha ehm girato sì sì perfetto grazie Cristian poi opportunità di mandarvi quel paper ed in finance grazie mille Cristian sempre sempre utilissimo è sempre presente Vittorio bilanci conoscenza dell'azienda passata e futura parlare con l'amministratore ok allora dal punto di vista delle informazioni questo è fondamentalmente quello che possiamo trovarci sulla scrivania quando eh abbiamo necessità di fare un'analisi di bilancio qua il secondo concetto che vorrei trasferire dopo quello che eh la riclassificazione ha molta soggettività e interpretazione è che i bilanci non è mica vero che sono tutti uguali bilanci sono profondamente diversi e sono profondamente diversi non solo per la storia diversa che ci raccontano di ogni azienda ma proprio per la loro struttura per la loro ricchezza informativa per la loro estensione e quindi abbiamo il formato civilistico del bilancio il formato civilistico eh che dice è un formato no non è mica vero che è un formato sì concettualmente è un formato ma nella realtà pensate ai bilanci civilistici eh che sono pubblicati in maniera abbreviata e di quelli pubblicati in maniera abbreviata pensati a quelli che hanno nella nota integrativa i dettagli sui debiti sui crediti quelli che non ce li hanno pensate ai bilanci della microimpresa pensate dei bilanci eh tra virgolette civilistici di altri paesi e oggi il mercato è globale e quante volte capita di fare un'analisi di bilancio soprattutto mi rivolgo ai CFO delle aziende e gli amministratori di azienda in cui mi voglio confrontare con dei concorrenti stranieri l'esempio che faccio sempre è quello della Spagna paese vicino in Spagna un'azienda per quanto piccola piccola possa essere deve sempre inserire nel proprio passivo il debito per leasing e nell'attivo il valore assunto della delle mobilitazioni legate al leasing in Italia sapete meglio di me che non è così a meno che non ci troviamo nella casistica che ricade negli IFRS se non sbaglio gli IFRS 16 i vecchi i vecchi IAS e quindi se devo confrontare le due aziende è un tipo di analisi di bilancio però se prima non conosco come i dati sono trasformati in informazioni sto confrontando le pere con le mele e quindi non mi serve a un bel niente ok Antonio dice una cosa interessante dice non parlare mai con il commercialista poi aggiunge alla fine scherzo però l'ha aggiunto alla fine in tutta fretta stiamo naturalmente scherzando quindi una buona analisi di bilancio va considerato come un processo per cui un altro punto da smarcare che l'analisi di bilancio non è un'elaborazione puntuale che termina lì no è un processo è un processo che non è detto che vada sempre alla sua massima estensione perché dipende dall'interesse che ha l'analista io potrei avere un interesse di primo livello e quindi accontentarmi della fonte dati pubblica quindi del bilancio civilistico per effettuare le mie valutazioni in quel caso lì il processo si ferma lì e quindi avrò investito poco tempo nell'analisi ma avrò anche dei dati che sono significativi fino a un certo punto invece adeguati assetti ehm supporto alle aziende per andare in banca oppure se sono la banca richiesta dei dati contabili prima che diventino diventino pubblici naturalmente avrò necessità di integrare nel mio quadro anche un bilancio provvisorio quindi un bilancio di verifica e quindi lì avrò dei dati mensili qual è il problema i dati mensili seguono il formato del software contabile che ho io ah ma io devo mettere insieme allora magari due annualità di analisi di quell'azienda che vengono dal bilancio civilistico è una che invece viene non abbiamo dei conti il formato di atterraggio è lo stesso ma i dati fonte sono diversi mamma mia come faccio no l'inus fa esattamente questo proprio perché cerca di supportarvi in un processo di analisi di elaborazione complichiamola ancora ulteriormente il formato fisico come lo chiamo io del bilancio è diverso perché posso avere a seconda delle fonti un csv posso avere un xml posso avere oggi json posso avere un formato della banca noi lavoriamo moltissimo con il mondo dei confidi ad esempio e con piacere sto notando che inizia inizia ad esserci un dialogo tra il mondo bancario e il mondo confidi che serve per analisi di bilancio cosa voglio dire che se voi siete una srl che va in banca la banca vi chiede i dati completi quindi se il vostro bilancio pubblico viene depositato in maniera abbreviata senza i dettagli di debiti dei crediti la banca comunque ve li chiede ovviamente questi dati vanno sui cosiddetti sistemi core di core banking sui sistemi bancari gestionali ok e seguono un certo formato non sono dati ufficiali ce li ha quella banca lì poi magari andate da un confidi per chiedere una garanzia su un'ulteriore operazione e quelli la vi richiedono un'altra volta no dei dati non sono gli stessi che avete dato alla banca quindi c'è una come dire uno sdoppiamento dell'attività di data entry adesso noi quello che stiamo cercando di fare e in parte stiamo iniziando a riuscirci lo dico con molta soddisfazione è far parlare se non i sistemi perché ancora far parlare sistemi vuol dire che la banca il confidi si devono mettere d'accordo loro quindi non è sempre immediato questo processo cerchiamo di fare in modo che l'inus faccia un po' da stelle di rosetta per cui se la banca dà al proprio cliente il proprio bilancio nel formato bancario l'inus lo traduce nel formato che è richiesto per il sistema gestionale dei confidi e quindi togliamo eliminiamo le fasi che non aggiungono grandissimo valore ok roberto aggiunge che per le società di persone è molto più complesso perché non c'è un bilancio depositato esattamente questo il punto che sto toccando roberto grazie perché una società di persone non deposita il bilancio ma se vuole andare in banca lo deve dare alla banca il bilancio ma se vuole una garanzia la deve la deve lo deve dare se roberto tu fossi il professionista che segue questa società per gli adeguati assetti dovresti ragionare su dei dati a cui comunque dovresti avere accesso quindi altro aspetto è la disponibilità dei dati ok quindi il formato della struttura contabile il formato del file la disponibilità pubblico meno dei dati vedete che abbiamo creato una confusione pachidermica no mamma mia abbiamo così fatto esplodere il concetto di analisi di bilancio l'abbiamo tradotto in quello che è nella realtà è un'attività estremamente complessa su dati che non sono affatto omogenei che non sono sempre disponibili e quindi terzo messaggio importante non possiamo come analisti ragionare a risorse infinite l'industria degli schemi di riclassificazione che secondo noi sono utili sappiamo perfettamente che non sono schemi perfetti per tutte le situazioni assolutamente ne siamo consapevoli e qualcuno ce l'ha fatto notare anche no ma il punto è che se tu sei un analista che deve analizzare un bilancio e di quel bilancio e tutte le informazioni perché sei il consulente dell'azienda a quel punto ti inventi lo schema che è perfetto per quel tipo di azienda lì ok il nostro problema che noi abbiamo tre milioni di bilanci all'interno della piattaforma che sono tutti quanti diversi quindi gli schemi devono andare bene per i milioni di bilanci devono andare bene per le 60 e passa strutture contabili che linus legge in automatico con il suo lettore ocr deve andare bene per tutto e quindi sapete non è facile poi chi vuole qualcuno lo fa ci chiede di creare delle strutture riclassificate personalizzate questo è naturalmente una cosa che siamo in grado di fare spesso le banche ce lo chiedono ok allora quindi una riclassificazione facciamo un altro passo in avanti significa se la guardiamo in ottica sistemica saper poter passare da qualsiasi fonte dato ovviamente parlo di dati contabili dati di bilancio dati contabili a degli schemi standard quindi sapere fare la cosiddetta mappatura di tutte queste informazioni in degli schemi che devono essere standard perché 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 è un vantaggio secondo voi avere degli degli schemi standard perché era un vantaggio disporre di un sistema che riclassifica quindi qualsiasi dato in degli schemi standard ci sono dei vantaggi in tutto questo soprattutto se fate gli analisti finanziari o se avete sul tavolo diverse situazioni in cui dovete analizzare elaborare dati dati di bilancio a cosa ci aiuta profondamente avere io io parlo dello schema linus perché sono sono di parte ma a parte le battute qualsiasi schema va bene no se funzionale alla vostra attività quindi perché perché si fa la riclassificazione roberto dice per la comparabilità christian confrontabilità dei cluster marco d'accordo con christian e anche luca è d'accordo con con marco che è d'accordo con christian eh condivisione rende confrontabili i dati direi che avete avete indovinato cioè disporre di un sistema riclassificato serve proprio a ehm ad avere un un sistema eh un modo di lettura dei dati che è omogeneo e quindi io so che quando parlo di pfn tendenzialmente parlo di quella cosa lì ok o comunque so come è stata calcolata la pfn c'è un altro argomento a favore della riclassificazione eh Antonio lo tocca in parte dice perché senza la riclassificazione non ho tutte le informazioni del business aziendale io ti interpreto così Antonio eh non ho una parte delle informazioni ma soprattutto quando devo fare pensate a un business plan voi avete mai fatto un business plan in formato civilistico cioè per un'azienda avete mai fatto una proiezione dei costi seguendo le logiche del codice civile quindi del bilancio civilistico secondo me no o se sì poche volte si riclassifica in uno schema gestionale perché perché nello schema gestionale mi interessa ad esempio sapere quali sono i costi identificati come fissi e quali sono i costi identificati come variabili e perché mi interessa beh perché se faccio muovere nel mio business plan i ricavi in un certo modo mi aspetto che i costi che abbiamo riclassificato come costi variabili si muovano a loro volta in un modo eh simile ok ma che comunque si muovono eh ok quindi la riclassificazione serve proprio a quello quindi la riclassificazione possiamo anche dare una definizione vuol dire riclassificare riorganizzare le informazioni contabili disponibili in maniera più funzionale alla nostra analisi ancora una volta mi viene in aiuto il codice della crisi eh pensiamo all'articolo tre che richiede all'analista l'azienda di verificare la assenza di squilibri economici cos'è un squilibrio economico quando c'è uno squilibrio economico secondo voi la domanda è quindi quando ho un non equilibrio di natura economico all'interno dell'azienda pensate a un'azienda che magari conoscete che che seguite e su cui state facendo dei ragionamenti state operando per lui dice quando leva è minore di zero quindi la definizione sofisticata io ne ho una ancora più più semplice non arrivo fino fino a leva eh Roberto dice quando non genera utili sono definizioni sono 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 ipotesi tutte rispettabili Luca dice margini assenti o costi superiori ai ricavi Antonio è bidà negativo ecco per esempio prendiamo anche Pierluigi parla delle bidà Sergio parla del mall che sappiamo che è simile è quasi uguale ma non del tutto alle bidà per esempio le bidà non esiste nel bilancio civilistico non c'è e quindi io se non riclassifico come faccio a valutare l'equilibrio economico voi direte c'è la differenza valore aggiunto ai costi operativi sì però se diciamo che il nostro parametro è le bidà quello non ce l'ho con un semplice calcolo lo posso andare a fare ok a calcolare quindi riclassifichiamo esattamente per eh per questo motivo ok un unico modello di analisi idoneo per comprendere e valutare qualsiasi impresa il modello di riclassificazione fa un'altra cosa standardizza le analisi qua vi ho messo un esempio che ho trovato anche su Linus di come poi se io faccio l'analista e mi abituo ad un certo modello di lettura di analisi dei dati poi ne guadagno anche in produttività perché immediatamente sono in grado di leggere determinati segnali che magari dai dati originali non si colgono faccio un esempio ancora pensiamo a l'analista o il professionista che in corso d'anno analizza che cosa i bilanci di verifica così la facciamo complicata trimestrali dell'azienda nel bilancio di verifica ci sono i flussi di cassa no ho il dettaglio dei miei mastrini i dettagli dei miei mastrini economici e patrimoniali quindi a seconda che voi abbiate zucchetti team system datev profis tutte le sap jd edwards in inglese qualsiasi tipo di fonte lì dentro non avete il rendiconto finanziario allora la riclassificazione mi aiuta anche perché prima trasformo una mega foglione da mille righe dettagliato in un conto economico eh in stile gestionale riclassificato e in uno stato patrimoniale per esempio questo lo fa Linus a fonti e impieghi dove c'è la PFN o il patrimonio il circolante netto e quant'altro una volta che ho fatto questo primo passaggio il sistema mi crea automaticamente il rendiconto finanziario suddiviso per gestione una volta che ho fatto questo passaggio il sistema mi calcola tutti gli indici legati ai flussi di cassa e mi mette in condizione di fare un business plan usando i dati storici riclassificati non originali riclassificati che provengono dagli originali per fare le mie proiezioni di business plan quindi capite l'utilità di avere un modello è esattamente questa perché vi porta ad essere estremamente veloci ed estremamente efficaci nella vostra azione di analisi l'ultima questione che vorrei affrontare poi passiamo veramente a giocare con qualche caso reale no che abbiamo eh così inserito all'interno della eh della nostra così eh del nostro della scaletta scusatemi non mi viene la parola di oggi è anche perché la riclassificazione influenza la valutazione in parte l'abbiamo eh l'abbiamo visto ma vediamola ancora meglio perché vorrei fissare un paio di fissare un paio di fissare un paio di concetti ancora prima di andare a giocare con dei dati usando qualche qualche cavia qualche azienda cavia qualcuna la metterò io qualcuna poi vi chiedo a tempo debito di segnalarmi allora questo è semplicemente eh sulla sinistra eh vediamo un estratto del conto economico in quella eh con una riclassificazione questo viene da Linus eh vedete che i dati nella colonnina eh di sinistra vediamo se riesco ad attivare oh bellissimo questi dati qua hanno la mitica voce a cinque che i commercialisti conoscono molto molto bene una voce a cinque una voce prevista dal in questo caso dal bilancio civilistico se non fate nulla ok quindi in assenza di azioni Linus riclassifica questa voce nel conto economico in una voce riclassificata quindi di atterraggio che si chiama oneri e ricavi diversi di gestione qua non si vede ma vi dico io che questa voce sta al di sotto dell'ebit quindi l'ebit è calcolato da Linus per questa azienda in questa modalità di riclassificazione non tiene conto di quel milione duecentonovantacinque di quel milione quattrocentodiciotto perché dice io per non sbagliare all'inizio questa voce la metto sotto l'ebit quindi non eh non abbiamo in questo caso una come dire sostenibilità economica che tenga conto di questa voce è una scelta che fa la piattaforma che naturalmente voi potete modificare in qualsiasi momento da qualche parte bisogna pur partire questo per quanto riguarda la parte a sinistra nella parte destra cosa vediamo vediamo un rendiconto finanziario legato alla stessa azienda ok dove eh fondamentalmente Linus fa una ricostruzione Linus prende il conto economico riclassificato mh dell'ultimo periodo in questo caso duemila e diciotto prende poi i due stati patrimoniali riclassificati poi tranquilli che lo vediamo con dei casi reali eh poi prende gli stati patrimoniali riclassificati del diciotto e del diciassette deve avere due periodi contabili consecutivi e siccome il modello è lo stesso per differenza mi calcola il rendiconto finanziario e quindi vediamo che in questo caso l'azienda nel duemila diciotto aveva una perdita netta di duemila euro ammortamenti svalutazione i posti non monetari sono queste qua i delta circolanti sono queste qua morale della favola l'azienda aveva un cash flow da capitale circolante operativo di meno un milione e trecentomila quindi diciamo che questa voce andava ad influenzare sicuramente la prima voce del rendiconto finanziario cioè il reddito netto da cui si parte ok quindi prima di passare avanti e farvi la domanda un pochino un pochino cattiva vi chiedo se è chiaro questo passaggio che magari non è automatico per tutti quindi per questo ve lo chiedo no? ho un conto economico riclassificato in un certo modo mi genero uno stato patrimoniale prendo due stati patrimoniali e per differenza vado a creare un rendiconto finanziario in questo caso suddiviso per gestione ok grazie Luca per il feedback chiarissimo dice Luca benissimo andiamo avanti e vediamo cosa succede a questo punto la voce del a 5 dei ricavi che abbiamo messo sotto la bidda la andiamo a riclassificare in un altro modo vedete che la stessa voce a 5 altri ricavi la andiamo a mettere nei ricavi ok prima era nel saldo oneri di gestione quindi la andiamo a mettere nella prima voce dello schema riclassificato linus cosa succede? è cambiato il flusso di cassa operativo quindi questa modifica della riclassificazione ha modificato il rendiconto finanziario quindi se io sto valutando l'equilibrio finanziario per gli adeguati assetti o se sto calcolando i DSCR perché devo andare in banca o quello che volete voi modificando l'incasellamento di questa voce ho creato una modifica nella struttura o nei valori del rendiconto finanziario qualcuno dice sì qualcuno dice no in realtà in realtà ha ragione chi dice no in questo caso perché perché se io vado indietro quindi vado alla slide di prima guardate qua con la voce a 5 dei ricavi riclassificata nei ricavi operativi il cash flow da circolante operativo era negativo per un milione e 300 il reddito netto da cui il rendiconto finanziario parte meno 272 se torno indietro quindi nella situazione precedente vedete qua ho la voce a 5 dei ricavi che invece è riclassificata al di sotto dell'ebitda però è uno spostamento che influenza solo il conto economico perché l'utile o la perdita rimangono uguali cambierà l'ebitda che qua volutamente non ho messo per farvi una scorrettezza ma il mio utile o perdita netta non cambia non cambiano gli ammortamenti non cambiano le svalutazioni men che meno cambiano le differenze di capitale circolante e quindi questo è un esempio di riclassificazione che non ha un impatto sulla struttura finanziaria della mia azienda perché ve lo faccio vedere perché quando giocheremo fra qualche minuto con i dati veri è opportuno avere sempre in testa se e dove vado ad influire nel momento in cui modifico le logiche di riclassificazione di una voce se la metto qui anziché metterla là devo aspettarmi che cambiano delle cose ok se un gruppo societario fatto da tante società tra cui non è capo gruppo ha tra le controllate un'azienda verso la quale nutre dei crediti perché magari le rende un servizio ma un servizio reale nel bilancio civilistico quei crediti saranno nella voce crediti verso controllate o partecipate se io questa voce invece volendo far prevalere un criterio di realtà la riclassifico nei crediti verso clienti secondo voi i tempi medi di incasso da cliente si modificano oppure non si modificano certo dice Milena anche Pierluigi e anche Luca certamente sì quindi attenzione si modificano anche Ernesto Fabrizio si allungano certamente perché sono io che ho ignorato una riclassificazione civilista che ho fatto prevalere una logica invece da analista dice sì dal punto di vista sostanziale a me non interessa nulla che tu sia una mia controllata mi stai ti ho reso un servizio ok e quindi non mi interessa la logica contabile ma quella gestionale tu per me sei un cliente ok benissimo vediamo un ultimo esempio un po' diverso e qua iniziamo ad arrivare alla domanda che qualcuno di voi non ricordo chi ha fatto in precedenza voce D9 quindi debiti verso controllate Linus nel proprio schema patrimoniale quindi riclassificato a fonti impieghi vedete qua inserisce tutta una serie qua c'è un esempio eh in questo caso lo sta inserendo nella voce altri debiti ok benissimo facendo così che è la situazione di parzenza io ho sempre ormai eh lo avete visto ho sempre il mio cash flow operativo negativo di un milione trecento mila trecento settantasette ma direte non cambia mai quel cash flow lì aspetta un attimo adesso facciamo la stessa lo stesso giochino che abbiamo fatto che abbiamo fatto in precedenza ovvero andiamo a a dire che quella voce D9 debiti verso controllati in realtà facendo prevalere un criterio di gestione perché il flusso di cassa operativo si è modificato in questo caso cosa ha fatto sì che qua non abbiamo più il mio meno un milione trecento ma meno un milione duecento diciotto che è diverso è cambiata la cassa bruciata o generata dall'azienda oppure il motivo un altro qual è il motivo secondo voi per cui modificando questa ricassificazione si è modificato il flusso di cassa vediamo se qualcuno questa magari era un po' un po' più tosta è variato Antonio giusto Antonio dice è variato il capitale circolante netto caratteristico Marco cambia la struttura del flusso come nelle nelle slide Fabio eh i i delta dei debiti genera la differenza assolutamente sì infatti se ci fate caso avete qua il delta debiti fornitori post rettifica è duecentosessantotto mila quindi se aumenta un debito naturalmente dal punto di vista della cassa aumenta una passività è una eh è una un aumento del della cassa ma perché non ho pagato un mio eh creditore ok quindi ho riclassificato questo debito come fornitore di conseguenza aumentata prima vedete che lo stesso debito era centotantacinco ma non è che ho aggiunto dei valori semplicemente li ho spostati da una casellina all'altra ok adesso se è tutto chiaro io andrei nella parte eh come dire eh nella seconda parte del nostro webinar che è quella un pochino più divertente anche un pochino più leggera dove andiamo a vedere alcuni casi che nella pratica poi sono quelli più frequenti dove bisogna fare attenzione soprattutto quando si guarda un dato pubblico perché il modello no di riclassificazione in certi casi può veramente influenzare tantissimo la nostra la nostra valutazione di eh azienda lo facciamo andando a sbirciare su linus sempre che ci riusciamo naturalmente benissimo intanto se avete qualche dubbio domanda critica prendo tutto ok adesso che siamo diventati esperti esperti di riclassificazione aggiungo un altro pezzettino che magari vi offre una lettura non così eh usuale no dell'importanza della riclassificazione certo è importante sul singolo caso non c'è dubbio l'abbiamo visto perché mi può cambiare la valutazione ma è importante anche nel caso in cui io utilizzi una base dati linus per esempio ma ce ne sono eh altre per fare una selezione di aziende certamente perché se guardiamo linus linus vi fa fare eh una selezione di aziende per il cosiddetto targeting ne ha parlato Alessandro Fischetti l'altro martedì di questo di questo argomento sia in base dei criteri di bilancio originale sia in base dei criteri riclassificati cosa vuol dire? Vuol dire che io posso andare a selezionare tra cinquecento e oltre filtri e in questi filtri ho delle voci riclassificate vedete ad esempio questa conto economico ricavi vedete che non c'è un'indicazione un'etichetta civilistica e quindi io devo sapere che i ricavi per come l'interpreta linus se metto voglio l'azienda che hanno i ricavi maggiore di cento milioni ok devo sapere che in questo modo qua lui sta prendendo la voce ricavi secondo lo schema riclassificato originale linus che vuol dire solo la voce a uno del bilancio civilistico ok adesso io non ho messo non ho messo l'anno e quindi adesso lui ci metterà un po' perché sta cercando in decine di anni quindi ho fatto una cosa sbagliata chiederò chiederò perdono a tutti quindi è importante anche in fase di selezione se richiedo le aziende che hanno una per esempio posizione finanziaria netta superiore a 6 che è un calcolo che la piattaforma mi sa io devo sapere come viene calcolata la posizione finanziaria netta perlomeno nel modello linus ma questo vale in generale per qualsiasi per qualsiasi tipo di di selezione che viene fatta altrimenti ho anche ho anche come dire vediamo se riesco a farlo da questa parte ho anche una lettura una lettura singola della della mia azienda quindi scusate anche una lettura civilistica dell'azienda volevo dire vediamo se lui si secondo me si impalla tutto perché ho fatto una query che non andrebbe fatta abbiate pazienza vediamo se ok allora mentre lui cerca io faccio un passo in avanti per poi tornare indietro vi chiedo scusa per questo momento un po' confusionare ma ci sta al bello della diretta perché vediamo se riusciamo a prendere questo allora eccola qua questa è una è una ricerca che poi vi mando come come screenshot no dove abbiamo così siamo andati a scegliere delle aziende che hanno certe caratteristiche lui ancora non mi fa andare avanti mi sa che dovrò chiudere browser pazienza però prima di chiudere browser per delle speranze in questo caso abbiamo scelto delle aziende che hanno guardate qua un valore dei ricavi eh civilistici vedete che lì non dice filtro schema civilistico voce a uno ricavi delle vendite delle prestazioni qua vi specifica che tipo di voce stiamo guardando minore di dieci milioni ok e poi gli abbiamo detto sempre nello schema civilistico dimmi quali sono le aziende che hanno la voce a cinque altri ricavi maggiore di un milione lo abbiamo fatto andando a guardare i eh bilanci del duemila e ventitré che come sapete eh sono già arrivati eh abbiamo già migliaia all'interno di l'Irus ma il grosso sta iniziando ad arrivare adesso e eh arriverà fino diciamo ad ottobre e abbiamo trovato ducentosettantotto aziende se facessimo questo esercizio secondo me a settei a setembre ed ottobre ne avremmo qualche migliaio probabilmente di aziende immaginando come si evolve poi il eh il database quindi questo cosa significa? Questo significa che eh ci sono tante aziende che hanno queste caratteristiche insite nel bilancio cioè che hanno delle voci che vanno veramente guardate con moltissima attenzione perché se tu hai immaginiamo di guardare gli estremi se tu hai dieci milioni di ricavi ma hai un milione che è il minimo possibile in questo filtro di voce a cinque capite bene che io devo capire bene cos'è quella voce a cinque perché in quel caso mi influenza tutta l'analisi quello che sto cercando di dire di trasmettere è che anche quando state ricercando attivamente delle aziende per finalità di contatto commerciale di servizio o di analisi o di ricerca di posizioni potenzialmente interessanti va tenuta conto questa peculiarità della riclassificazione ok immaginate ad esempio un'azienda che ha una liquidità bassissima e quindi questo magari mi va ad incidere negativamente sulla valutazione finanziaria però scopriamo che ha una voce C.3.6 dell'attivo quindi altri titoli non immobilizzati elevatissima magari un'azienda che invece sembra un'azienda brutta perché ha poca liquidità ma in realtà è un'azienda che tutta la liquidità la investe in bot per la gestione ottimizzata della tesoreria per raggranellare qualche punto di interessi attivi in più sui conti correnti e non lasciare lì i soldini inattivi e attenzione perché in quel caso lì la scelta è questi titoli li metto o non li metto in posizione finanziaria allora datemi abbiate pazienza un secondo io devo per forza fare così intanto vi chiedo mentre faccio le mie operazioni se voi quella voce lì di bilancio quindi la la C.3 la andreste a riclassificare all'interno della liquidità oppure oppure non lo fareste quindi questo è una cosa che sinceramente mi interessa molto anche questa spostiamo di qua questa qua Alessandro mi dice di sì perché Alessandro dice di sì sempre e Roberto completa la risposta di Alessandro quindi se prontamente smobilizzabile io la considererei nella liquidità Luca invece dice se fosse l'attività finanziaria smobilizzabile potrebbe essere giusto e se invece ho la partecipazione finanziaria che va che va nell'immobilizzazione voi la mettereste lì dentro oppure no santa domanda a mio avviso interessante Alessandro dice in questo caso di no perché anche Milena è d'accordo con Alessandro eppure potrebbero essere delle immobilizzazioni di valore anche quelle magari vendibili no c'è un conto che è la quota di partecipazione all'interno di un'azienda sconosciuta magari invece è una quota di controllo stabile cosa mi dite in questo caso se partecipazione quotate in borsa perché non è prontamente liquidabile benissimo direi che ci siamo assolutamente va bene va bene allora andiamo a vedere alcuni casi tra quelli che abbiamo citato in precedenza allora partiamo da un caso che abbiamo visto prima che era a mio avviso molto interessante un'acciaieria quindi qua tocchiamo l'argomento dei costi e andiamo sulla riclassificazione economica ok quindi questa è un'azienda stiamo guardando dati pubblici e quindi utilizzo questa informazione per finalità esclusivamente di dati che ma assolutamente non stiamo valutando né giudicando l'azienda stiamo giocando con i dati dell'azienda queste sono elaborazione di dati pubblici bilancio civilistico aggiornato al 2023 e a me interessa capire sulla parte economica come vengono riclassificate certe poste qual è la caratteristica qual è il costo secondo voi uno dei costi più importanti di un'acciaieria acciaieria barra fonderia l'energia dice Christian che mi viene in buon aiuto utenze energia energia elettrica eccetto anch'io penso che sia lo stesso lo stesso costo allora fase 1 siamo in una fase in cui la fonte dati è un bilancio civilistico e quindi vedete che ad esempio alcune voci sono a zero ma non è vero che questa acciaieria immagino che avrà dei costi commerciali variabili avrà dei distributori a cui pagare delle commissioni avrà degli agenti avrà dei venditori esterni avrà dei costi per trasporto avrà dei costi variabili che sono in qualche modo legati ai volumi e ai fatturati qua perché vediamo zero secondo voi perché vediamo perché dice costi variabili commerciali zero perché ha preso una cantonata non riesce a vedere i costi o per qualche altro motivo perché in questa fase non vede non li vede questi costi variabili commerciali è legato all'energia non è scollegato non li vede perché ricordo che questa è un'analisi costruita su un bilancio civilistico nel bilancio civilistico bravo antonio manca la fonte dati cioè nel prospetto contabile noi non abbiamo la voce civilistica costi per energia ma una serie di costi viene inserita abbiamo la voce costi per servizi che linus riclassifica nei costi variabili di produzione ah ma allora tutti i costi per servizi sono variabili no però io ho un unico valore che devo riclassificare o devo allocare vi ricordate il discorso del processo di analisi no e quindi inizialmente questa è un'analisi automatica dove io non ho aggiunto informazioni non ho guardato la notte integrativa non ho il bilancio di verifica dell'azienda non ho un bel niente e quindi da qua devo partire e poi ho dei costi fissi di produzione che comprendono il godimento di beni terzi e il personale qua mi sento un pochino più sereno nel dire che questi qua sono costi tendenzialmente fissi avete sempre a disposizione come vi ho detto prima lo schema dettagliato dell'analisi quindi io sono sempre in grado di come dire di sapere vedete lui è esploso il mio schema dettagliato e mi dice che nella voce ricavi in questo momento ho dentro solo la voce a 1 che negli acquisti ho dentro solo la voce a 6 che queste sono le voci che ho dentro delle rimanenze eccetera 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 benissimo io volevo però vedere i costi dell'energia e in precedenza avevo cercato di scaricare un bilancio quindi cercando di andarmi a prendere la mia nota integrativa vediamo se da qualche parte lo trovo ok questo è il bilancio ufficiale lo sto facendo in diretta e giuro che non l'ho fatto prima vediamo se faccio contro l'f energia magari non viene fuori niente che non riesco a leggerlo consorzio energia eccolo qua addirittura abbiamo un credito di imposta per energia elettrica questo tra l'altro è un pdf non leggibile vedete che non riesco a selezionare le voci ok riduzione o nel sistema per energia quindi qua dovrei andare probabilmente nelle voci di conto economico proviamo a farlo velocemente andiamo giù avete capito non posso navigare il bilancio pienamente perché è una disponibilità liquide andiamo nel conto economico patrimonio facciamo un pochino più piccolo fondi rischi non cintetti fr debiti mamma mia un bel bilancio l'abbiamo preso debiti 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 già qua si vede comunque l'infinità di voci che da una nota integrativa in questo caso molto come dire molto significativa ci sono alti ricavi però 20 2 milioni 5 divisione dei ricavi costi della produzione vediamo se troviamo qualcosa di interessante qua no? materie prime consumo godimento bene di terzi personale ammortamenti ok vediamo se c'è qualche dettaglio in più se no ci inventiamo noi un costo un costo dell'energia con buona pace non riesco a trovarlo ma da qualche parte sarà fa niente facciamo così tanto mi interessa trasmettere un po' il concetto il concetto è questo ok eccolo qua benissimo ok perfetto ok allora andiamo nel conto economico supponiamo che il costo dell'energia di questa azienda sia di 5 milioni Luca poi fa giustamente un commento insomma anche io parafaro dicendo che vanno un po' riportate tutte le i dettagli all'interno del più milancio andiamo avanti allora sulla base di questa riclassificazione noi abbiamo che cosa abbiamo una valutazione di questo tipo qua quindi io non ho ancora toccato nulla vado a vedere la sintesi che mi fa Linus il quale mi dice che sulla parte economica abbiamo una variazione dei ricavi voce a 1 del 13 1% margine operativo fatto in un certo modo e quant'altro i costi per l'energia nel dettaglio correggetemi se sbaglio chiedo soprattutto i commercialisti dovrebbero stare nei costi per servizi giusto? quindi io so che la mia voce costi per servizi che Linus riclassifica nei costi variabili della produzione comprende 5 milioni di costi per l'energia ok allora se parliamo di una fonderia io vi chiedo voi vi aspettate che il costo il costo dell'energia sia un costo più vicino a una voce di costo fisso o una voce di costo variabile siamo parlando di una fonderia quindi conoscenza dell'azienda che è un altro aspetto che avete toccato in precedenza ok Alessandro dice giustamente un costo variabile benissimo se il costo è variabile io vedo che una fonderia tutto sommato posso accontentarmi in una prima fase dell'approssimazione che fa Linus Sergio mi dice costo fisso qui c'è quindi un conflitto Antonio dice costo fisso per una parte avete fatto la tripla allora io non conosco questa fonderia nella fattispecie immagino che in realtà una parte sia fisso perché magari anzi senza magari i forni va mantenuti sempre accesi allora proviamo a giocare su questo per adesso lo stiamo considerando variabile perché in mezzo alla riclassificazione c'è l'opinione che esprime l'analista ok quindi è costretto a tenere i forni accedi dice Sergio assolutamente su questa base se io lo considero come costo variabile quindi diluito inserito in questi 19 milioni cosa succede? succede che io mi ritrovo un punto di pareggio un punto di pareggio incalcolato dell'azienda di circa 80 milioni prima conseguenza seconda conseguenza direi la più importante supponiamo che stiamo aiutando questa azienda ad andare in banca e deve fare il mitico business plan ok andiamo ad azzerare un po' tutte le nostre simulazioni precedenti benissimo allora vedete se io ho io ho i dati fino al 2023 immaginiamo che nel 2024 l'azienda dica i ricavi crescono del 10% poi l'azienda mi darà il dettaglio mi dirà su quali linee su quali prodotti vedete che io a questo punto ho il mio costo variabile che ricordo include i 5 milioni che sono un numero inventato da me plausibile di costo per l'energia che sta lì dentro se i ricavi crescono del 10% e poi del 5% perché questa è la nostra ipotesi base del business plan e io ho inserito ipotizzo che il costo dell'energia sia un costo variabile vedete che i miei costi variabili variano di conseguenza quindi ho fatto un piano che alla base ha esattamente questa ipotesi di lavoro che quel costo si mantenga variabile ok attenzione perché questo non ha un peso solo nella parte economica ma un peso anche in tutti gli indici di valutazione in questo caso perché perché se io questo costo lo riclassifico come variabile lui me lo fa crescere e quindi ho una una modifica no poi di quello che è il mio utile di periodo e quindi avrò una modifica degli indicatori di di marginalità avrò una modifica del punto di pareggio avrò tutta una serie di come dire di modifiche e questo è il primo caso quindi punto di partenza costo variabile adesso facciamo facciamo che tutti i 5 milioni in realtà sono un costo fisso quindi facciamo l'ipotesi opposta io mi apro un altro fogliettino di lavoro all'interno di linus quindi lascio lì il mio business plan e vado a giocare giustamente Luca mi dice sei stato ottimista con 5 milioni chiedo veni a Luca ma non ho trovato il numero nel bilancio fammela passare per questa volta dai quindi nei miei 19 milioni dico no in realtà 5 milioni sono fissi quindi cosa faccio farò una rettifica ok 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 quindi facciamo così abilitiamo tutti gli anni sennò l'inus arrabbia non mi fa fare le rettifiche giustamente ok andiamo a vedere qua dentro gli dico guarda la rettifica sul 2023 che voglio fare è questa ma chiamo costi energia quindi costi energia voglio fare una rettifica in cui vado a togliere 5 milioni ok e dal dai costi come si dice dei costi variabili e quindi diciamo che ne rimangono 14 facciamo qua ok anzi facciamolo così è ancora più semplice scusate in realtà lasciamo 5 milioni qui togliamo 5 milioni ok perfetto vedete che adesso i miei costi variabili da 19 milioni che comprendevano l'energia e altri costi diventano 14 milioni vedete anche che lì non si arrabbia perché mi dice guarda Stefano sei un somaro perché adesso l'analisi non quadra più certo aspetta un attimo perché questi costi li stiamo considerando come costi fissi sono sull'analisi storica non sono nel business ma in questo momento quindi dovrò fare la rettifica opposta a compensazione quindi dire che ci sono in realtà costi energia che mettono i costi fissi per 5 milioni ok benissimo perfetto andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda l'analisi storica se vado giù ok vado a prendere il mio business plan scusate eccolo qua ok diamo un bel refresh perché il business plan vedete parte dal dal 2023 che utilizza come spalla quindi andiamo a dare un refresh al 2023 che è il mio anno di partenza e vedete cosa cosa è successo ok è successo che i miei costi variabili non sono più aumentati in maniera proporzionale no a quello che era prima mentre ho mantenuto i miei costi fissi che includevano che includevano la mia rettifica quindi attenzione perché il come considero dei costi mi va ad influenzare radicalmente il modo con cui io sto realmente valutando valutando un'azienda ok quindi questo è è molto è molto importante avete visto un piccolo esempio chiedovenia poi visto anche guardando il tempo chi mi dice che una parte dei costi sono fissi una parte sono variabili meccanicamente è un po' la stessa cosa di quello che ho fatto io no l'importante è prima di fare un business plan avere chiara la riclassificazione perché lui poi me la proietta me la proietta in avanti su questo ho la mia come dire la mia la mia valutazione torniamo per un secondo su un altro caso che secondo me era significativo ok vediamo se era questo qua Luca dici che sto facendo un business plan in questi giorni e sto facendo esattamente buon lavoro buon lavoro assolutamente da questo punto da questo punto di vista allora andiamo a vedere questo caso se è quello che intendevo io prima se no ne andiamo a prendere un altro quindi primo caso classificazione dei costi energetici tra fissi e variabili ok no non è questo andiamo a prenderlo qua oggi ho dovuto avere pazienza ma ci arriviamo manca ancora un paio di casi interessanti vediamo se lui mi carica il filtro eccolo qua voce a 1 voce a 5 oh perfetto adesso andiamo in diretta a vedere quello che è stato interrotto prima su Firefox quindi andiamo a vedere abbiamo ricercato quelle 278 aziende che hanno vedete ricavi da 20 prestazioni 10 milioni e voce alte ricavi 1 milione andiamo a pigliarci che ne so io duvetica international questa qua ma sì perché no perché non dovremmo prendiamo questa azienda e vediamo cosa succede eh lo so Luca che non è un lavoro banale anzi è un lavoro abbastanza complesso ok guardate questa azienda cosa fa vediamo cosa fa confezione in serie cosa vedete da questo conto economico cosa vi colpisce da questa sintesi del conto economico guardate a guardare un attimo ciao Fabrizio grazie ancora sto collegato ancora a 5 massimo 10 minuti quindi al massimo sforiamo di 5 minuti rispetto alle 15 e 30 no? voglio toccare due casi allora di questa azienda colpisce che in questo momento abbiamo una un EBITDA negativo per 2 milioni secondo lo schema di riclassificazione standard applicato da Linus ok abbiamo addirittura un utile di 15 milioni è chiaro che è un caso è un caso particolare qualcosa è sicuramente è sicuramente successo perché negli altri anni non mi si eh presenta questa situazione cosa fa l'analista va approfondisce la voglia dell'analista è approfondire sempre andiamo a vedere e vediamo nel mio conto economico del 2023 che abbiamo ricavi voce a 1 Linus me lo ricorda del bilancio 9 milioni e 2 e poi abbiamo un'enormità uno sproposito saldo nelle ricavi diversi di gestione che abbiamo visto nelle slide prima vi ricordate 20 milioni andiamo ad esploderlo e abbiamo una voce a 5 di 20 milioni io qua mi dovrei andare a scaricare il bilancio con la nota integrativa per capire di cosa caspita si tratta però su questo caso estremo se la voce a 5 che ha quel valore così come dire importante è concentrata per esempio in una sola annualità non c'è nell'altra annualità io potrei decidere di lasciarla veramente addirittura nelle straordinarie o sotto le bidda ok se invece il caso della metallurgia che vende gli scarti truccioli di metallo tanto a tonnellata tanto a quintale c'è sempre c'è tutti gli anni posso decidere di inserirla nei ricavi l'importante che poi lo spieghi nel mio business plan lo spieghi è una finanziaria dice Luca guarda che era in perdita è andata a confezione un abbigliamento una finanziaria forse ha venduto una partecipazione Giorgio dice hanno venduto il cappello nell'isbeco vendita partecipazione però avete già dato tre bellissime spiegazioni tutte plausibili Milena aggiunge la plusvalenza Luca si ho capito che era per ridere ma è interessante perché poi se guardi le squadre di calcio di fatto sono tutte delle finanziarie in questo caso io ho una valutazione dell'azienda questo è un caso naturalmente estremo che vedete sulla parte economica viene completamente come una valutazione di tipo negativo sui dati pubblici ripeto stiamo giocando stiamo facendo per finalità didattica la duvetica è un'azienda meravigliosa e quindi non c'è alcun tipo di problema se io vado a prendere quella voce decido che in realtà quella voce lì la voglio spostare da un'altra parte lo posso fare in questo modo ecco tutte queste operazioni per chi non conosce SELINU sono spiegate in pillole video c'è il manuale c'è la formazione che facciamo quindi non vi preoccupate se magari all'inizio non sappiamo dove muoverci prendo questa voce e questo è un caso veramente banale lo vado a spostare all'interno dei ricavi immagino che non sia corretto in questo caso ma ripeto non lo so perché non ho letto la nota integrativa è evidente che la valutazione dell'azienda cambia di tantissimo quindi fate attenzione vedete è un'azienda bellissima all'improvviso fate attenzione perché quando voi su Linus andate a creare la reportistica come sto facendo io adesso che vi serve per un consiglio di amministrazione la reportistica è una valutazione che tiene conto assolutamente di come state riclassificando i vostri dati ok ultimo esempio che vi pongo io poi chiuderò la sessione ma resterò collegato per altri dieci minuti perché vi ho promesso che chi è piacere mi può segnalare mi può segnalare delle aziende da andare a vedere quindi sarà un po' una specie di fuori salone come si direbbe a Milano nel settore nel salone del mobile è quest'altro caso qui andiamo a prenderci andiamo a prenderci eccola qua questo è il caso di aziende guardate questi filtri stiamo chiedendo a Linus di darci delle aziende che hanno la voce T3 debiti verso soci per finanziamenti quella di cui poi vi manderò il link all'interessante paper di Ivan Fogliate che grazie a Christian ho recuperato nel frattempo vabbè ricavi minore di 10 milioni quindi qua c'è un proporzionamento grosso l'anno per cui se tu fai meno di 10 milioni ai debiti verso soci maggiore di un milione insomma diventa una cosa interessante ne apro una di queste volete avete piacere che ne apro una io a caso mi vado a prendere questa cosa fa trasporto e magazinaggio vado a prendere questa qua Adriatic Towage ok per modificare i criteri di riclassificazione questo è un tema Linus l'azienda va spostata copiata nell'area riservata perché state applicando un criterio che è il vostro di criterio naturalmente ok situazione di questa azienda questa azienda sulla parte patrimoniale che è quella su cui mi voglio concentrare debiti finanziari per 6 milioni 665 ma sappiamo che in questo caso sono inclusi i debiti verso banche e i debiti per obbligazioni andiamo ad aprire abbiamo un debiti finanziari a breve termine un milione e due nel 2023 che sono appunto la differenza tra il totale debiti e quelli a breve e debiti a medio e lungo 5 milioni e 4 questa 2 milioni di liquidità PFN 4 milioni e 575 ok PFN su EBITDA lo troverò anche qua sotto 2,29 e qua c'è la discussione di prima su cosa andiamo a mettere nella posizione finanziaria io guardo che negli altri debiti mi trovo debiti verso soci per finanziamenti che sono costanti tutti gli anni se li vado ad inserire questi debiti verso soci per finanziamenti supponiamo nei finanziamenti disposto quindi nei finanziamenti a medio e lungo termine io sto andando a modificare la mia posizione finanziaria ok quindi il mio indicatore intanto la mia posizione finanziaria è aumentata a 7 milioni e 917 il mio PFN su EBITDA è diventato di 2,92 ok quindi attenzione perché in questo caso io sto toccando la struttura patrimoniale dell'azienda e sto dicendo a Linus di calcolare la PFN in un modo diverso rispetto al suo e qua smarchiamo tutto il calderone che avete giustamente toccato in precedenza cosa succede se ho dei crediti qualcuno prima ha detto alla domanda cosa mettiamo in PFN dei debiti finanziari debiti anche rateizzati che generano interesse seguite il vostro criterio in base a quello andate a modificare questo è il mio invito la nostra posizione finanziaria attenzione perché se aiutate un'azienda ad andare in banca e l'azienda dovesse avere per esempio debiti tributari scaduti la banca quei debiti li prende e li ricassifica come se fossero debiti finanziari quindi modifica la posizione finanziaria vi ho anche fatto vedere perché sono partito dai filtri sono partito dai filtri perché uno potrebbe pensare è che si tratta di fenomeni isolati in realtà i filtri sono di grandissimo aiuto perché quando inseriamo delle ipotesi di lavoro io arrivato ad applicare e poi concludo la parte ufficiale del nostro webinar di oggi quando arrivato ad applicare dei filtri come dire come quello che ho usato io adesso quindi aziende che hanno fino a 10 milioni di ricavi ma oltre un milione di debiti verso soci per finanziamenti mi trovo delle cose assolutamente interessanti ho 2000 aziende e siamo ancora a un avanzamento dei bilanci 2023 veramente bassissimo oppure volendo io potrei anche andare a prendermi aziende guardate questa che carina così ci lasciamo ci lasciamo bene allora andiamo a vedere eccolo qua totale debiti finanziari uguale a zero ok aggiungiamo secondo voi in Lombardia ci sono delle aziende che hanno zero alla voce debiti finanziari non un euro zero sotto i 10 milioni di ricavi Giorgio dice almeno il 15% Alessandro dice no Roberto dice sì allora con i dati disponibili ad oggi guardando solo i bilanci da cui si possono estrarre tutte le informazioni in Lombardia abbiamo 5.641 società che hanno la voce debiti finanziari pari a zero quindi questo lavoro l'abbiamo fatto sulla sull'Italia e mediamente abbiamo dal circa 18-22% di società di capitali che hanno zero alla voce debiti finanziari attenzione non se ne parla mai ma sono aziende che per la grande maggior parte sono sanissime e non sono aziende che non hanno debiti perché le banche non danno loro i soldi ma nell'80% dei casi sono aziende che hanno degli ottimi score degli ottimi rating delle ottime valutazioni quindi lì è interessante andare a capire il modello di analisi cosa fanno queste aziende quindi spero ditemi se ci sono delle domande io concluderei qui la parte ufficiale della sessione ma rimango assolutamente collegato per qualche minuto se qualcuno di voi ha piacere di come dire di vedere qualche caso di suo interesse chiaramente devono essere dei casi suggerisco dove la riclassificazione secondo voi è importante quindi vi chiedo intanto un feedback sulla sessione mi spiace che c'è stato un po' un momento in cui ho lanciato una query monster la presentazione del business plan per le banche come visivamente allora Marco mi chiedo com'è la presentazione del business plan per le banche allora ci sono diverse diverse opzioni quindi Marco ti rispondo in differita perché tu puoi da Linus o esportare dell'analisi che fai e inserirli in un tuo formato lo puoi fare tranquillamente oppure puoi usare le presentazioni automatiche che fa Linus che possono ricevere dei commenti che inserisci in aggiunta o anche essere integrate con delle tue slide customizzate ci sono tre o quattro ci sono tre o quattro modelli possibili se per te va bene per non rubare magari il tempo agli altri poi in separata seti ti mando degli esempi ok allora ok saluto anch'io tutti voi dice Luca che ringrazio per così l'alzata che mi fa dice tutto chiaro credo che bisognerebbe spiegare a tutti che senza questi webinar non si può usare Linus per quello che vale tocchi un punto importante per noi Luca in realtà ci sono tante funzionalità Linus che non richiedono formazione cioè se io devo entrare nel database e digli estraimi le aziende che fanno più di un milione di ricavi non ci vuole formazione quando andiamo in profondità come adesso invece è opportuno seguire questi webinar o seguire il manuale o seguire anche le formazioni che facciamo con l'aiuto di Rinfinance con altri quindi assolutamente sì Elena mi dice che ha difficoltà con gli algoritmi negli indici infranuali lo vediamo assolutamente Marco concorda con Luca grazie ancora a Luca quindi nessuna azienda non volete guardare alcuna azienda per cui se non ci sono aziende da andare a sbirciare direi che chiudiamo qua il nostro webinar di oggi e poi rispondiamo indifferita alle varie domande quindi ringrazio tutti voi per la pazienza per la partecipazione e direi che ci vediamo alla prossima grazie alla prossima anche a te Roberto buon lavoro a tutti e da Stefano Carrare da Linus